Un raid americano ha colpito e probabilmente ucciso il Mullah Akhtar Mansur, da un anno leader dei Taliban afghani e successore del Mullah Omar. L'attacco segna il ritorno all'azione nell'area delle forze statunitensi, che dalla fine delle operazioni di combattimento della Nato nel 2014 avevano teoricamente solo una missione di assistenza ai militari di Kabul. L'eliminazione mirata sarebbe avvenuta con un drone in territorio pakistano, ai confini con l'Afghanistan a sud-ovest di Ahmad al-Wal. Negli ultimi tempi i Taliban hanno messo a segno molte offensive e attentati. Il Pentagono spiega che Mansur era un ostacolo alla riconciliazione e impediva ai leader taliban di partecipare ai colloqui di pace col governo afgano, che avrebbero potuto portare alla fine del conflitto. Pochi giorni fa il governo ha promosso un accordo di pace con Ekmatyar, capo di una delle fazioni che hanno insanguinato il paese.